Buongiorno l'orchideria di Milosola, l'orchideria di medicina per l'anima. Mi raccomando il nuovo libro, l'orchideria storia e personaggi, quarta edizione, tra i grandi pregi, costa poco, è semplicissimo, l'ho scritto io. Lo trovate qui l'orchideria su Amazon. Costa 25 euro ed è composto di 562 pagine. Allora, la pianta di questo video è questa qui. La Ciantilare Curva. È una microscopica orchidea, una orchidea miniatura, una micro orchidea che vive sulle Ande, e sperate che lo metto giù, che magari così riprende meglio. Fa questi fiorellini qui, molto simpatici. È bella tutta la pianta e il fiore. Certo bisogna essere, le chiamiamo le orchidee degli scemi, queste qua piccole piccole. Bisogna arrivare a questo punto qua per capirle. Perché inizialmente si è trattato di tutte le più grandi, le più appariscenti. Quindi, allora, abbiamo fatto quasi 700 video. Non so più cosa dire adesso, perché abbiamo già parlato un po' di tutto. Allora mi tocca fare un po' di cose vecchie, che abbiamo già fatto. Vi voglio riraccontare come mi sono appassionato io delle orchidee. Allora, ero il 1965-66, avevo 20 anni o 21 anni. E mio padre aveva questa piccola azienda di pericoltura, che allora si gotevano piante fiorite. E noi comproviamo piante verdi per integrare l'assortimento da colleghi della zona, oppure da una grande azienda che era nata in quegli anni a sud, a Praia Mare, vicino a Maratea. Era un'azienda enorme, costruita da un grande industriale tessile di Torino. Qui ha costruito questa enorme azienda di pericoltura. A Maratea aveva un'enorme tessitura. e a Praia Mare, queste enorme aziende di pericoltura. Tra l'altro, recentemente, poi ne parleremo anche di quel libro lì, ho letto un bellissimo libro di Porco Cane, come si chiama? Vabbè, mi verrà in mente dopo, che si chiama Ordine e Disordine. E lui, questo grande personaggio qui, che è morto l'anno scorso, adesso mi verrà in mente la fine, ha lavorato, lui era matematico, come si era lavorato in matematica, ha lavorato in questa azienda di tessitura lì a Maratea. Vabbè, comunque adesso non c'è tra niente con le orchidee. Mentre io ho venuto il rappresentante di questa azienda, che aveva un anno più di me, Franco Stuni, che lui era giù dalla Basilicata, e lui faceva, da settembre a giugno, faceva sede a Milano e da lì viveva in un appartamentino a Milano e con un frugolcino trezzato, con tutta la cooperatura di questa azienda, girava tutta la pericoltura dell'Altitalia. Era giugno, o da 65, da 66, venuto per la solita visita, mio padre ha ordinato le piante che ci servivano e poi lui mi dice, domani vado giù alla Pamafi, quella grossa azienda, lì si chiamava Pamafi, vuoi venire? E io, il mio padre ha detto, se vuoi andare? Va bene, allora domani vengo a prenderti alla stazione di Milano, viene Milano in treno, che ti vengo a prendere la stazione, con la mia 850 Coupe Nuova. E di fatto è venuto a prendere con la 850 Coupe Nuova, una vecchia Fiat, ai tempi molto di moda, che però era in rodaggio, per cui abbiamo fatto Milano-Roma 90 all'ora, era nuova, nuova, e da Roma in giù non c'era più autostrada, era tutta strade normali, così per cui ci siamo fermati a pernottare in un piccolo albergo e la mattina dopo siamo arrivati alla Pamafi, che era questa azienda colossale, ordinatissima, che adesso mi dicono è chiusa, sono passati tanti anni, tutte le cose, c'è una fine. C'era delle serre enormi, delle serre proprio che non si vedeva la fine, e c'era, ogni sera c'era una coltivazione, una sera di crotono, una di pambacchia, una di tracene, così finché siamo arrivati nell'ultima serra, e nell'ultima serra il proprietario della Pamafi aveva importato dagli Stati Uniti delle piante di orchidee per fare delle prove di coltivazione, e c'era cento piante di falenopsi, tra le altre, che a giugno sono nel pieno dell'apertura. Io non avevo mai visto le falenopsi, c'è un ragazzino che andava amato con le piante e i fiori, tutti i libri sui fiori, sulle piante ce li avevo, li avevo letti e riletti tante di quelle volte che sapevo dei pezzi a memoria, e guai che me li toccava, però da nessuna parte avevo saputo che c'erano le falenopsis, non immaginavo neanche che esistessero, pensavo di sapere un po' tutto sulle orchidee, sulle piante, e le falenopsi proprio non mi ho mai neanche immaginato. immaginatevi trovarmi davanti cento tutte fiorite, e di tutti i colori, perché dopo, quando si è cominciato che in Italia coltivavano le falenopsis per fiore recisio, si coltivavano solo bianche, lì invece c'erano di tutti i colori, una più bella dell'altra. Fra costumi doveva portarmi alla stazione di Sapri per prendere il treno per il ritorno. Ma io non mi avevo più di lì, a un certo punto mi ha preso per un braccio, mi ha detto se non partiamo immediatamente per il treno, e ho dovuto venire via. Ho fatto il viaggio in treno che sognavo le falenopsis, quando sono venuto a casa ho convinto mio padre a coltivare le prime falenopsis, abbiamo preso contatto con la ditta Brasferroia Lecuc di Parigi, Philippe Lecouf parlava bene l'italiano, parla bene l'italiano perché ha più o meno la mia età, e lì è cominciato tutto, io avevo cominciato a prendere le prime piante, mi ricordo le prime piante di planopsis e di catreia, e dopo una decina d'anni coltivavamo solo orchidee. Niente, perché io che pensavo di essere un grande conoscitore delle piante così, che sapevo un po' tutto, trovarmi davanti alle planopsis, cento piante che non immaginassi, sapete che sballo chi è, che roba, lo sapete perché quando vedete le orchidee, vabbè dai, domani a domani.